Cari amici, anche a voi piace il profumo di pulito che emana l'ambiente appena tinteggiato? La tinteggiatura riesce immediatamente a farci percepire un ambiente più in ordine pulito, a prescindere dalla tonalità di colore utilizzata. Per chi, come me, adora il senso di ordine e pulizia, consiglia una pittura di tipo idrorepellente, particolarmente adatta a respingere l'umidità e evitare il fastidioso effetto di sfogliamento che a volte si presenta nel corso degli anni. Covema ha creato un ottimo prodotto, leader su mercato, che quest'anno celebra ben 50 anni. Si chiama Moor Color, un'idropittura molto affidabile per le sue caratteristiche tecniche come traspirabilità e proprietà antimuffa. Deborah mi ha contattato dopo che si è trasferita a Milano dalla Francia insieme al marito Homer e ai due figli. Per lei avevo studiato un appartamento classico, ma non troppo. Per le denteggiature non ho avuto dubbi. Grazie a Moor Color, gli ambienti avrebbero mantenuto un aspetto impeccabile e come appena verniciati per anni, senza sorprese per Deborah. Moor Color è anche un prodotto green e utilizzandolo si aiuta Covema a sostenere il progetto Tridom per la creazione di Greenland, una grande foresta che aiuterà il mondo a respirare. Pensate, sono già stati piantati più di mille alberi che hanno assorbito più di 350.000 kg di CO2. Ricordatevi sempre che oltre al colore, anche la scelta della tipologia di vernice è fondamentale. Ricordatevi sempre che oltre al colore.